Uomini e donne Brando e Prichian entra al grande fratello. Il tronista svela che lui e Raffaella Squotto hanno preso una decisione. E adesso vi parliamo di Brando e Prichian e Raffaella Squotto che sono usciti insieme dal programma di Uomini e donne di Maria De Filippi e insomma come vi diciamo sempre. E come potete vedere con i vostri occhi, Brando e Prichian e Raffaella Squotto sono davvero una bellissima coppia. Su questo non ci sono davvero dubbio alcuno. Ma spesso Brando e Raffaella parlano anche dei futuri impegni nel mondo dello spettacolo. Anche se non affrontano mai direttamente l'argomento, sono sempre quelle cose un po' in sospeso. Questa volta parlando a casa Lollo con Lorenzo Pugnaloni invece ha voluto fare chiarezza. Ma la prima a parlare è stata Raffaella Squotto che ha parlato fra le altre cose della scelta di Daniele Paudice e Gaia Gigli dicendo che. Mi piacciono tantissimo. Senza nulla togliere a Marika, Tabonato, NDR, speravo che scegliesse Gaia perché la vedevo più adatta a lui per una questione di età. La complicità è cresciuta tantissimo tra di loro e poi a me piace quando un uomo migliora per una donna e lui rispetto all'inizio del trono. Quando aveva quella leggera arroganza tipica del napoletano, pian piano ha abbassato questa corazza per avvicinarsi a lei. È stata lei a portarlo ad addolcirsi, per cui sono contenta che l'abbia scelta. Era la mia preferenza dall'inizio. Non è scontato che un uomo riesca a lasciarsi andare così tanto, quindi mi ha fatto un certo effetto. Mentre ha dichiarato sul grande fratello. Mi farebbe piacere, ritengo che sia una bella opportunità. Fin da piccoli li abbiamo visti questi programmi quindi riuscirne a farne parte è bello, ti dà un po' di soddisfazione. Non è facile, certo. Anche uomini e donne. All'inizio l'avevo preso sotto gamba ma in realtà è complicato, non sembra da casa. Entrano in gioco tante emozioni e io faccio fatica ad aprirmi, a far vedere chi sono veramente. Tante volte c'è un po' un mistero, una maschera. Anche Raffa mi dice che quando viviamo dei momenti insieme non sono la stessa persona che sono con gli amici. Quando riesco ad entrare in sintonia con una persona di cui mi posso fidare io mi apro e cambio tanto, divento meno freddo. Anche un grande fratello tira fuori tante sfaccettature. E Raffaella Scuotto ha fatto capire chiaramente che l'idea non gli dispiacerebbe.